Buongiorno a tutti, andiamo a introdurre il penultimo dibattito, la penultima presentazione di questa edizione del Festival Altri Modi e Altri Mondi. Presentiamo il nuovo progetto del collettivo Cronaca Ribelli, che ringraziamo per essere saliti. Un libro che trovate laggiù, ve lo dico subito al banchetto accanto a quello del Senza Pazienza, che si intitola Non esistono gli individui, esiste la società. Io faccio un'introduzione super veloce, poi lascio subito la parola a Matte e poi magari piuttosto dopo nel dibattito andiamo anche un po' più oltre. Cronaca Ribelli è un progetto che sicuramente molti, se non tutti e tutte tra voi conoscono, poi magari Matte fa anche una presentazione un pochino più articolata del lavoro che fanno, di come hanno iniziato il progetto e di come seguirli e mantenersi anche aggiornati sulle pubblicazioni e sui lavori di Cronaca Ribelli. È un collettivo che nasce con l'idea di colmare un po' un vuoto, l'assenza fondamentalmente di uno spazio di divulgazione che fosse il più largo possibile, infatti per questo si era pensato inizialmente ai social network, uno spazio di divulgazione di un racconto storico fondamentalmente, che si discostasse un pochino dalla narrazione storica a cui siamo abituati e portasse un pochino l'accento su quelli che sono stati e sono tuttora noi i protagonisti collettivi delle grandi trasformazioni storiche, le classi popolari, le soggettività oppresse, le soggettività in lotta. Poi chiaramente si è ampliato, ma questo ce lo potrei anche spiegare dopo Matte, un po' nel senso di ricercare qualcosa che si discosti un pochino dalla tipica divulgazione a cui siamo abituati va anche questo lavoro qui, questo ultimo libro, che si propone di ricercare un campo un pochino diverso rispetto alla ricerca storica, cioè il campo della psicologia sociale. Cos'è la psicologia sociale? È una branca della psicologia che si occupa di esaminare le dinamiche dei gruppi, le norme, i pregiudizi, fondamentalmente tutti gli aspetti dei comportamenti sociali e dei comportamenti umani per come si strutturano all'interno delle relazioni sociali. Come fondamentalmente gli individui, i singoli individui, costruiscono comportamenti sociali e sono condizionati dall'ambiente in cui si trovano a vivere, a lavorare, a riprodursi e quant'altro, e come anche a loro volta hanno una relazione con l'ambiente in cui si trovano. È un lavoro di divulgazione che raccoglie una venticinquina, una ventiquattro, mi sembra, esperimenti che sono stati fatti nel campo delle scienze sociali e della psicologia sociale, da quelli più noti, l'esperimento dell'onda e altre cose, a altri aspetti che invece sono meno noti e vengono anche presentati, diciamo qui, insomma, in maniera un po' compatta e molto fruibile, molto scorrevole. Qual è secondo noi un po' il fine di un lavoro del genere e il motivo per cui poi ci siamo un po' decisi a presentarlo? Secondo me sta, prendendola diciamo molto larga, proprio nel titolo, cioè non esistono l'individuo, esiste la società, che è fondamentalmente il capovolgimento di una famosa frase di Margaret Thatcher, non esiste la società, esistono l'individuo. È una frase che Margaret Thatcher si dice che abbia pronunciato negli anni Ottanta, all'interno del contesto che era quello fondamentalmente della grande ristrutturazione del sistema capitalistico dopo gli anni 70 e che poi viene universalmente riconosciuta come fase, come quella che insomma ha dato un pochino l'avvio all'affermazione del modello, diciamo, di sviluppo e di dominio che vediamo oggi. Qual è? Margaret Thatcher dice che non esiste la società, esistono solo gli individui. In realtà Margaret Thatcher non pensa che la società non esista, Margaret Thatcher pensa che la società non debba più esistere, che è una cosa diversa. Qual è, anche andando sulla storia di questa roba, qual è la società che Margaret Thatcher decide di negare su questa roba qui, era quella che era fondamentalmente il più grande ostacolo a quel processo di ristrutturazione capitalistica che lei, Reagan, insomma tutta una serie di alfieri di quella ristrutturazione portavano avanti. Cioè era quella società che coincideva fondamentalmente con grossi settori di classe operaia, di classe operaia anche sindacalizzata inglese, insomma gli scioperi delle miniere e quant'altro, che negli anni e nei cicli degli anni precedenti, negli anni 40, 50, 60, 70, aveva sviluppato tutta una serie di comportamenti sociali molto specifici, di antagonismo rispetto a, da un lato al lavoro salariato, da un lato ai bisogni, all'alienazione del lavoro in quanto tale, eccetera, eccetera. Era il pezzo di classe che si organizzava collettivamente, che scioperava, che imponeva una riduzione dell'orario di lavoro e quant'altro. Ed era un pezzo di società che metteva in campo proprio dei comportamenti sociali specifici che aveva appreso fondamentalmente all'interno delle relazioni che si andavano formando tra gli individui che quella società, quel pezzo di società e quel pezzo di classe componevano, all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno dei luoghi di riproduzione sociale, all'interno dei quartieri popolari, dei grandi quartieri dell'edilizia residenziale, eccetera, eccetera. Cioè all'interno di una serie di comunità fisiche, ma poi anche, soprattutto, di comunità relazionali. E la risposta, diciamo, retorica di Margaret Thatcher a l'eliminazione, come dire, di questo pezzo di società che esprimeva un determinato tipo di comportamento anche antagonistico rispetto a quello che era poi il suo progetto è appunto questa frase particolarmente semplificativa che nega la società in quanto tale, nega la possibilità della società e dell'organizzazione sociale e dà, diciamo, secondo noi un po' una cornice di senso che è quella in cui poi ci troviamo immersi oggi quando si parla di relazioni sociali, quando si parla della valorizzazione dei singoli all'interno di questi sistemi. Cioè fondamentalmente l'individualizzazione di tutto quello che prima era collettivo. Cioè se prima c'erano forme di relazioni sociali, si facevano i conti anche con dei soggetti collettivi, ecco adesso la nuova cornice, diciamo, di senso generale è quella dell'individualizzazione, dei comportamenti, delle scelte, di una valorizzazione proprio del singolo individuo dotato di raziocinio, di una formazione, di delle specifiche capacità determinata, insomma, da null'altro se non dalle proprie scelte, all'interno del mondo del lavoro, del mondo della riproduzione, eccetera, eccetera. Che è stata quella che poi ha aperto, questa retorica qui è stata quella che poi ha aperto, insomma, a precarizzazione, all'atomizzazione di tutta una serie di cose che conosciamo bene. Ecco il titolo, no? Prova a capovolgere proprio nel senso letterale del termine questa affermazione che aveva fatto Margareta, cioè non esiste la società, esistono solo gli individui, dice non esistono gli individui, esiste la società. E il libro prova, diciamo, e adesso passo la parola a Matteo, prova un pochino a mettere un punto, una narrazione, diciamo, anche da un punto di vista, diciamo, scientifico, anche divulgativo, su appunto tutta una serie di esperimenti che non fanno altro che dimostrare come dire l'affermazione del fatto che in realtà i comportamenti sociali si sono individuali, ma vanno a crearsi e vanno a esprimersi e vanno poi a riprodursi, a crescere, a modellarsi all'interno di una serie di condizionamenti, di relazioni sociali molto più complesse e quant'altro. Io non dico altro, lascio la parola a Matteo e grazie mille ancora per essere venuto. Buonasera a tutti, innanzitutto ovviamente ringrazio Nico per l'introduzione, voglio ringraziare questo spazio per averci ospitato ancora una volta. Noi siamo venuti qui per la prima volta nel 2018, siamo contenti di essere tornati e questa per me è un'occasione importante anche per esprimere tutta la nostra vicinanza, solidarietà rispetto a tutte le attività che qui vengono fatte dalle realtà e dalle persone che lo attraversano. Dico questo anche perché mi serve, è importante per introdurre una roba che io ci tengo a dire prima di presentare il libro. Quando noi siamo arrivati nel 2018, la prima volta a Torino, ospiti realtà del collettivo universitario, abbiamo detto che il nostro progetto avrebbe preso una piega diversa rispetto a molti altri progetti per corsi editoriali. Noi siamo stati e restiamo ancora oggi un collettivo, quindi noi siamo una realtà totalmente orizzontale all'interno del quale le decisioni vengono prese insieme. E questo ci tengo a dirlo e ci tengo a precisarlo, come ci tengo a precisare è anche il fatto che nel 2018 quando è uscito il nostro primo libro, il primo libro di Cronache Ribelli, l'Almanacco, abbiamo deciso di non entrare nel circuito editoriale e nel circuito soprattutto della distribuzione, restando una realtà che ancora oggi a distanza di sei anni ha distribuito tutti i suoi libri, che sono oggi 22 pubblicazioni, fuori da quelli che sono i grandi store online, fuori dalle grandi librerie, cercando di dimostrare che si poteva fare editoria e si può fare editoria anche senza accettare quei compromessi al ribasso che la distribuzione oggi ti impone. Questo è un tema importante per noi, anche più importante a volte di quello che raccontiamo nei libri. Perché? Perché quello di cui le persone che stanno fuori da questo ambiente spesso non si rendono conto è che oggi il mondo editoriale che a sua volta è parte del mondo più grande della comunicazione, perché grandi case editrici, grandi distributori, sono anche soggetti che stanno dentro i grandi gruppi editoriali di comunicazione, se ne possono citare tanti, ma si può dire Mediaset, Mondadori e Ali, per citarne soltanto uno che ovviamente è tra i più importanti, controllano il mercato e la produzione dei libri. E se in questo Paese c'è un grosso problema è questo. Oggi si producono tanti libri, ma molti di questi libri hanno un unico obiettivo, che è quello di fare profitto. Chiaramente anche noi siamo una realtà che per stare in piedi, per lavorare, per sopravvivere vende libri, ma pensiamo allo stesso tempo che una casa editrice debba essere un soggetto che si dà come primo obiettivo quello di produrre cultura, di selezionare le opere che hanno un valore artistico, storico, culturale, poetico e farle conoscere al grande pubblico. Invece quello che fa l'editoria in questo Paese è prendere persone che molto spesso provengono da altri ambienti, influencer, giocatori, personaggi dello spettacolo, creare quelli che oggi vengono definiti instant book, cioè libri che ci hanno una dorata brevissima perché seguono o il flusso della notorietà di questi personaggi o il flusso di alcuni eventi particolari, c'è la guerra in Ucrania e quindi stampiamo tutto quello che si può stampare su quell'evento per monetizzare il più rapidamente possibile, stampiamo in grandi quantità, stampiamo spesso anche in Cina perché chiaramente ci costa meno e poi quando questo evento, questo personaggio non è più sotto i riflettori della comunicazione, questi libri vengono mandati al macero. Questo è un Paese che distrugge ogni anno dai 5 agli 8 milioni di libri, fatto che viene incentivato anche dallo Stato e è un fenomeno che ha un prezzo ambientale altissimo. Questo fenomeno insieme al tema dell'editoria pagamento che chiaramente noi abbiamo sempre rifiutato unito alle logiche dei grandi saloni e dei grandi store è qualcosa che dobbiamo combattere collettivamente e è un tema sul quale dobbiamo prendere anche e conquistare maggiore coscienza perché se noi conosciamo altre filiere e sappiamo lo sfruttamento che c'è dietro, anche dietro la filiera del libro, c'è lo sfruttamento ambientale, c'è lo sfruttamento a volte di chi scrive, c'è lo sfruttamento di chi lavora ovviamente in tutto quello che è la logistica e la distribuzione. Faccio questo preambolo perché l'unica cosa di cui siamo contenti di poter dare conferma è che a distanza di 6 anni dall'inizio di questo lavoro abbiamo esattamente le stesse idee e portiamo avanti esattamente le stesse pratiche. Con la differenza che nel frattempo grazie a realtà come questa che ci hanno ospitato abbiamo realizzato più di 250 presentazioni e nonostante non abbiamo una rete distributiva abbiamo fatto circolare oltre 30.000 libri. Questo è importante perché è una piccola dimostrazione che comunque si può fare editori in un altro modo. Chiudendo questa parentesi, chiedo scusa per aver rubato anche questo spazio di tempo, parliamo insomma del libro di oggi. Cominciamo appunto dal titolo come giustamente veniva detto, il titolo è chiaramente una provocazione e diciamo questa che sto dicendo è una delle tre premesse che voglio fare anche per magari non intassare il dibattito successivo. Ci sono tre cose che vanno dette su questo libro. La prima è questa. Il titolo è una provocazione, ovviamente noi non pensiamo che non esistano gli individui e nemmeno che non esista il libero arbitrio. D'altro canto noi crediamo che appunto da persone che si occupano di scienze umanistiche, in particolare di storia, che i contesti sociali, culturali, ambientali, familiari all'interno dei quali le persone vanno a sviluppare la propria esistenza siano determinanti nel permettere o non permettere determinate ipotesi e determinate scelte. La seconda premessa che va fatta su questo libro è che molti degli esperimenti che raccontiamo all'interno di questo testo sono esperimenti che oggi non potrebbero essere considerati privi di ogni etica. Tant'è vero che appunto non sarebbero nemmeno più replicabili. Perché? Perché i soggetti sottoposti agli esperimenti, i soggetti appunto sperimentati, nella maggior parte dei casi erano incoscienti di essere appunto dei soggetti testati, non conoscevano né lo svolgimento dell'esperimento nella sua completezza e né tantomeno il fine che l'esperimento aveva. Questo chiaramente ha garantito agli sperimentatori di avere il risultato diciamo più tra virgolette pulito possibile, quindi privo dell'autocontrollo che l'individuo avrebbe messo in atto conoscendo il fine dell'esperimento ma all'altro canto ha avuto anche delle conseguenze importanti sia dal punto di vista fisico o dal punto di vista soprattutto psicologico per le persone che questi esperimenti li hanno vissuti sulla propria pelle. La terza cosa che va detta è che alcuni di questi esperimenti poi col tempo sono stati anche confutati messi in discussione ovviamente da studi successivi ma noi abbiamo comunque inseriti perché dal nostro punto di vista il tema era appunto quello che veniva posto prima, cioè l'idea che attraverso questi studi le scienze sociali abbiano dato un contributo importante a una discussione riguardante il nostro comportamento all'interno di ambienti sociali e come l'interazione tra persone possa produrre tutta una serie di comportamenti atteggiamenti che noi tutti potremmo giudicare come impossibili da verificarsi o che noi stessi non metteremo mai in atto ma che in realtà dentro certi contesti sono più probabili e più possibili di quanto noi immaginiamo. Va detto che alcuni di questi esperimenti meritano di essere confutati anche perché ovviamente la platea sperimentata è una platea molto ristretta, sono molto spesso maschi, adulti, bianchi appartenenti alla classe media quindi ovviamente è un campione ristretto che espelle anche da questo tipo di percorso tutta una serie di minoranze e di soggettività marginalizzate. Quindi questa è l'introduzione per poi andare a parlare concretamente appunto del testo e di come è organizzato e di qual è il fine di questo lavoro. Questo testo è organizzato come veniva detto prima attraverso 24 capitoli in cui vengono raccontati 24 esperimenti, ci tengo a dire che seppur è un testo divulgativo chiaramente noi abbiamo utilizzato e tradotto tutto il materiale scientifico originale all'interno del quale vengono raccontati e anche diciamo scientificamente verificati gli esperimenti che poi abbiamo riportato nel libro perché comunque la psicologia sociale essendo comunque una scienza ci dà anche di tutta una serie di strumenti di misurazione che noi in gran parte abbiamo rimosso o ridotto all'osso perché chiaramente il testo avendo una funzione divulgativa non poteva avere 10-15 pagine in ogni esperimento in cui si spiegasse come, non lo so, venivano misurate le reazioni cutanee degli individui che partecipavano all'esperimento di Milgram. Questo tipo di lavoro, questo tipo di percorso, quello di 24 capitoli di cui vi dicevo, si compone anche di un'introduzione all'interno di ogni capitolo, noi raccontiamo un fatto di cronaca o un fatto storico che dal nostro punto di vista non è che può essere spiegato direttamente attraverso quell'esperimento ma quell'esperimento che poi segue nel capitolo può darci alcuni strumenti per aprire una riflessione sul come e perché tutta una serie di comportamenti che noi consideriamo gravi, aberranti, terribili e che come dicevo prima noi stessi pensiamo che mai metteremmo in atto in realtà sono comportamenti che in determinati contesti specifici si possono sviluppare ma soprattutto si possono sviluppare e questo è anche il senso di questo libro se le persone non sono a conoscenza di certe dinamiche. Cioè nel momento in cui tu ti rendi conto che l'autorità esercitata dentro un gruppo ha un determinato effetto, nel momento in cui ti rendi conto che i media possono avere una determinata funzione, nel momento in cui ti rendi conto che l'occultazione, la divisa può provocare un certo tipo di comportamento poi tu come individuo sviluppi quelli che potremmo definire anticorpi sociali e all'interno di determinate situazioni sei molto meno in balia appunto di quello che è il contesto. È un libro che ci serve dal nostro punto di vista per quindi criticare quelli che sono alcuni noassetti fondamentali del neoliberismo che prima giustamente Nico menzionava. Cioè l'idea molto calvinista per cui siamo un po' tutti predestinati a fare un certo percorso nella vita che paradossalmente pur essendo predestinati, quindi anche questo lo dicevamo prima chiacchierando, è una contraddizione, ognuno di noi abbia o non abbia meriti esclusivamente individuali in base a quali risultati raggiunge nel suo percorso di vita. Questo è un libro che quindi in realtà ci dimostra che non funziona in questo modo. Tutti noi, come diceva all'inizio, siamo il prodotto di tutta una serie di stratificazioni che sono anche molto più vecchie di noi. Ci è cara una frase abbastanza famosa di un antropologo, Marshall Salins, che dice che quando un bambino nasce al di là del corredo genetico è come un foglio bianco su cui noi possiamo scrivere quasi tutto. E sapere che molte volte quella penna che va a scrivere sul nostro foglio bianco non è una penna che teniamo in mano noi, ma tiene in mano qualcun altro, è qualcosa che ci aiuta anche nel nostro percorso come individui di formazione, di autoformazione ma anche di riflessione rispetto a noi stessi. E' importante dire questo anche per, e qui parlo di noi come collettivo, abbiamo fatto questa riflessione per dirci che se noi oggi siamo qui, stiamo facendo questo lavoro, abbiamo realizzato questo libro, non è soltanto o non è soprattutto un merito nostro. Noi siamo stati messi in condizione da tante persone, da tanti ambienti, da tutta una serie di percorsi di lotta, di cambiamento che hanno riguardato più o meno direttamente le nostre vite e che ci hanno portato a essere qua oggi. Avremmo potuto sicuramente prendere altre scelte ma, e questo vale un po' per tutti, gli spazi che abbiamo attraversato, le realtà che abbiamo conosciuto, ci hanno condizionato, pensiamo noi ovviamente in maniera positiva, e continuano a farlo. E questo è qualcosa che ci dobbiamo dire tutti i giorni, perché questa roba qui, d'altro canto, c'è anche un contraltare, cioè il fatto che chi vive nella marginalità, chi vive in determinate condizioni, chi sviluppa anche comportamenti che la società considera devianti, non può essere guardato solo come un individuo colpevole, a se stante, estrapolato dal contesto e dalle condizioni che vive. Questo chiaramente non è una giustificazione a prescindere per ogni tipo di scelta di comportamento, ma è una convinzione, un principio importante, che se i comportamenti sono comportamenti individuali, quando vengono replicati su scale numeriche importanti diventano un problema sociale e vanno affrontati come un problema sociale. Noi siamo abituati a una società in cui si pensa di dare risposte individuali a problemi collettivi e non ci sono più o ci sono sempre meno interventi sociali che vanno nell'ottica di agire globalmente su determinati contesti. Questa roba qui non soltanto produce un grande sperpero di risorse, non soltanto produce un totale fallimento, e lo vediamo per esempio nelle politiche securitarie repressive che ottengono sempre meno risultati, ma soprattutto crea i presupposti di atomizzazione della società e di conflitto tra ultimi, guerra tra poveri a cui noi assistiamo ormai quotidianamente. Quindi è questo il motivo che ci ha spinto a utilizzare queste storie, a raccontare questi esperimenti, per farci entrare all'interno di un mondo che appunto è quello della psicologia sociale che ci può fornire alcuni strumenti importanti anche nell'analisi della realtà che ci circonda. Ho fatto questa introduzione, questa panoramica e magari prima di lasciare la parola al dibattito mi sento anche di raccontarne uno di questi esperimenti che poi non è sicuramente tra i più noti, che però secondo noi è molto importante perché è un esperimento che ci aiuta anche a capire come determinati comportamenti umani possano essere il prodotto di determinate spinte e diciamo determinate situazioni. Questo qui è l'esperimento di Robert's Cave, è un esperimento che si è svolto nel dopoguerra negli Stati Uniti, è un esperimento che sostanzialmente è stato promosso dai coniugi sheriff con l'obiettivo di studiare le dinamiche tra gruppi e la competizione o la cooperazione, come si innescano i conflitti tra gruppi e come si possono risolvere questi conflitti. Anche qui noi siamo abituati a vivere in una società in cui chiaramente la competizione è in dogma, l'idea che comunque l'uomo sia cattivo per natura si va a sommare all'idea che questa cattiveria debba essere messa in questa sorta di gara collettiva per arrivare sempre primi che attraverso insomma il sistema anche scolastico, il sistema universitario ci viene chiaramente propinata a dosi massicce e questo esperimento appunto nel dopoguerra va a studiare questo fenomeno, cioè va a dire ma la competizione e la cooperazione sono comportamenti naturali oppure sono comportamenti che si possono indurre? Come si costruiscono questi tipi di comportamenti? Si sceglie come soggetto da esaminare per questo esperimento due gruppi di bambini sostanzialmente, di studenti di quinta elementare per fare un paragone con le classi di studi italiane, vengono scelti ovviamente come si faceva sempre in questi esperimenti bambini che non hanno condizioni di disagio economico familiare, non hanno storie di abusi alle spalle, non sono stati mai protagonisti di episodi di violenza nei confronti dei propri coetanei, mediamente bravi e diligenti a scuola, sono bambini che tra di loro non si conoscono, vengono divisi con un sistema come dicevo prima molto matematico, molto scientifico che appartiene proprio alla psicologia sociale in due gruppi che sostanzialmente si equivalgono per peso, altezza, colore dei capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Questi due gruppi vengono tenuti separati nella prima settimana dell'esperimento. In questa settimana l'obiettivo degli sperimentatori è costruire appunto il gruppo, il gruppo che non c'è perché questi bambini non si conoscono. All'interno della prima settimana vengono proposte una serie di attività ad ogni gruppo in varie parti di questo campo scout e attraverso queste attività comuni i bambini costruiscono le varie dinamiche di gruppo, sorgono le prime leadership, sorgono le prime attività collettive. Alla fine di questa settimana gli sperimentatori decidono di introdurre la conflittualità tra i gruppi. Il primo strumento che utilizzano è farsi che degli spazi che ogni gruppo riteneva propri diventassero spazi ambiti da entrambi. Quindi se un gruppo aveva avuto a disposizione il campo da baseball, adesso non era più l'unico gruppo avere la disposizione. Quindi si crea una situazione in cui le risorse vengono diminuite. Cioè mentre all'inizio ogni gruppo aveva molte risorse da utilizzare quindi c'era un'abbondanza di risorse che già di per sé ovviamente è un motivo di diminuzione del conflitto, si fa vedere che nel momento in cui le risorse diminuiscono il conflitto aumenta. Si creano degli spazi anche di vita condivisi come una sala mensa comune e soprattutto si inizia a creare la competizione mettendo come obiettivo quello di vincere delle gare e dando in palio per queste vittorie dei premi che i bambini consideravano molto ambiti. Quindi capite bene che diminuzione degli spazi per ogni gruppo, creazione di spazi all'interno dei quali c'è competizione perché entrambi vogliono ottenerli e non sono sufficienti per uno dei gruppi, creazione di gare vere e proprie in cui ci sono dei premi limitati e molto ambiti questa roba qui è una sorta di detonatore che viene inserito nelle dinamiche di gruppo. Si vede che comunque questa storia dei bambini che iniziano a fronteggiarsi in queste gare prende subito piede e prende subito anche una dinamica molto radicale perché già il secondo o terzo giorno iniziano a insultarsi, iniziano le prime offese, c'è qualche spintonamento tra i bambini, i bambini che appunto nella prima settimana avevano creato questi due gruppi, si erano dati anche dei nomi, da una parte le aquile e dall'altra i serpenti asonai che peraltro si chiamano serpentasonai perché nel corso delle loro attività hanno incontrato un serpentasonai e questo vi fa capire anche sempre come erano strutturati questi esperimenti, cosa che oggi ovviamente sarebbe inaudito replicare. questi due gruppi dicevo iniziano a scontrarsi e lo scontro diventa sempre più feroce, già dal terzo quarto giorno iniziano a litigare per chi entra prima negli spazi comuni tipo la mensa, al quinto giorno partono diciamo le prime forme di violenza e quando uno dei due gruppi poi vince il tanto ambiti premi a seguito di tutta una serie di prove iniziano anche i raid punitivi, parliamo di bambini di 11 anni che infilano sassi dentro le calze e cercano letteralmente quasi di ammazzare i propri coetanei questo succede dopo 5 giorni spingendo l'acceleratore sui comportamenti competitivi e sullo scontro tra gruppi gli esaminatori chiaramente sono costretti a un certo punto a intervenire perché la piega che hanno preso gli eventi diventa particolarmente pericolosa anche se siamo appunto 70 anni fa comunque c'era una certa attenzione sul fatto che almeno non succedessero tra di loro i bambini finisce così la seconda settimana con questo odio feroce terrificante inizia la terza settimana in cui gli sperimentatori devono dimostrare che adesso introducendo elementi di cooperazione possono disinnescare questo tipo di comportamento ovviamente il sistema più facile sarebbe stato quello di incontrodurre un terzo gruppo verso cui far scatenare l'odio di entrambi i gruppi che poi è quello che succede anche sempre nella nostra società i rom e le minoranze e i poveri eccetera in realtà ovviamente gli sperimentatori non volevano utilizzare questo sistema ma volevano semplicemente dimostrare che attraverso pratiche cooperative anche qui spingendo molto l'acceleratore e radicalizzando queste pratiche si potevano raggiungere certi obiettivi quindi il lunedì della terza settimana decidono di fare una roba molto molto dura cioè staccano l'acqua da tutto il campo i bambini sono letteralmente senza acqua quindi stanno crepando di sete e l'unico modo che hanno per risolvere questo problema è mettersi insieme e unire le energie perché nel frattempo gli sperimentatori hanno bloccato la cisterna con un mega masso e hanno otturato in più punti diciamo il condotto che porta l'acqua ai campi voi capite che nel momento in cui crepi di sete anche le persone che fino a pochi giorni fa avresti preso la sassata possono diventare importanti perché ti possono aiutare nel percorso di ricerca dei blocchi dell'acquedotto o a spostare i massi quindi a riconquistare imbrane primarie o come l'acqua questa roba qui effettivamente funziona perché comunque si vede che attraverso questa costrizione i bambini sono costretti a collaborare scoprono pian piano i vari problemi che all'acquedotto lo riescono a liberare e riconquistano l'acqua chiaramente non è subito non basta solo questo evento a far diminuire il conflitto che era così radicato tra i gruppi però per esempio porta già questo tipo di situazione porta a un compromesso cioè non si litigano più l'accesso alla sala mensa comune ma fanno dei turni quindi cala lentamente la confittualità si decide per esempio di utilizzare altri strumenti viene proposto ai bambini di vedere un film in comune ma nessuno dei due gruppi abbastanza soldi per diciamo prendere in affitto la pellicola quindi ci si deve mettere insieme anche in questo caso e prendere una decisione comune vengono fatti ulteriori pratiche cooperative e alla fine della settimana si decide di fare un passo ulteriore cioè si portano via i due gruppi dal luogo del conflitto in cui il conflitto si era instaurato e si era radicalizzato e lì si porta in un altro campo in un altro campo dove non erano mai stati in cui non si pone il problema della mancanza di risorse o di spazi che erano considerati propri e poi si sono invece sentiti usurpati da altri all'interno di questo campo si mettono in nuovo in funzione diciamo si creano degli ostacoli nuovamente che costringono i bambini a collaborare ad esempio la finta rottura di un mezzo che doveva portare il cibo che viene trainato con la stessa corda che prima era stata utilizzata come gioco competitivo quindi un tiro alla fune che diventa in realtà uno strumento di cooperazione e si studia anche questo cioè come attività che prima erano competitive poi possono diventare cooperative quando i bambini vanno a montare per esempio le tende per la notte gli si danno dei pezzi non gli si danno tutti i pezzi a nessuno dei due gruppi ma si mescolano i pezzi in modo che siano costretti a scambiarseli e via dicendo si danno i panini a un gruppo e all'altro panino gli si dà l'interno per riempire i panini sono tutti stratagemmi ovviamente però si vede che dall'esterno una forza superiore capace di condizionare i gruppi li porta pian piano a avere comportamenti profondamente cooperativi alla fine dell'ultima settimana attraverso questa pratica sostanzialmente si nota che i due gruppi originari sono scomparsi c'è una mescolanza tra gli individui che peraltro ha anche provocato un altro fenomeno cioè la caduta delle leadership durante il periodo del conflitto la leadership diventa fondamentale e la sua autorevolezza barra autorità nel gruppo diventa forte siamo in guerra c'è il capo gli dobbiamo obbedire quando la situazione di conflitto viene meno e sorge la cooperazione anche la figura di leadership perde non solo la fascinazione ma perde anche una parte del suo ruolo e conseguentemente decade diciamo nella piramide sociale chiamiamola così del gruppo alla fine di questo percorso spontaneamente i ragazzi scelgono di tornare con un unico autobus insieme e ci sono degli scambi diciamo di numeri di telefono e di indirizzi che appunto superano la dinamica dei gruppi ora non è che ovviamente questo esperimento è una panacea di tutti i mali quindi dobbiamo prendere la lettera eccetera eccetera però è uno studio importante perché è uno dei tanti studi che dimostrano che appunto ci sono capacità di condizionamento dei gruppi che possono portarli ad avere determinati comportamenti questi tipi di comportamenti possono appunto essere indotti come attualmente viene indotto lo diciamo prima un modello competitivo basato sulla sopraffazione e sulla cultura dell'individualismo e dell'egoismo esasperati noi possiamo costruire una società all'interno della quale le persone vengano introdotte a modelli di cooperazione e possano scegliere di praticare delle attività in modo cooperativo ecco questo è uno dei tanti esempi noi per esempio lo abbiamo collegato questo esperimento perché anche qui è importante parlarne a uno dei più terribili genocidi del novecento che è quello appunto genocidio ruandese e anche lì la dinamica di creazione dei gruppi e di creazione di conflitto tra i gruppi in quel caso praticata dai belgi tra i uto e i tuzzi poi magari ne possiamo parlare anche brevemente se volete ci dimostra come si possono costruire e questo è successo ovviamente e ha avuto le conseguenze terribili si possono costruire gruppi sociali si possa dare un ruolo di dominio un ruolo di sudditanza dentro la società e si possono innescare delle bombe sociali che hanno effetti gravissimi su scale anche enormi ecco io ho fatto una bella panoramica credo un po' del libro perché l'abbiamo fatto e di queste storie quindi niente vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora ovviamente questo spazio per l'ospitalità e se c'è qualcuno chiunque di voi voglia fare domande voglia interagire siamo qui e voglia esporre anche critiche chiaramente siamo qui a disposizione grazie si rompo un po' il ghiaccio io intanto grazie Matte per 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 questa presentazione e volevo chiederti diciamo partendo da magari anche dal racconto di un altro degli esperimenti che vengono citati in questo libro che sta al capitolo dell'influenza degli stereotipi razziali sulla decisione di sparare che chiaramente ha a che vedere con un contesto sociale abbastanza specifico insomma sappiamo tutti a che cosa ci riferiamo insomma quelle forme proprio di profiling letteralmente razziale che prendono piede all'interno degli Stati Uniti secondo cui insomma ha una determinata categoria che viene segnata diciamo sulla linea della razza e a cui vengono fatti corrispondere sia all'interno della realtà materiale che all'interno poi dei media delle forme di informazione quindi all'interno come dire della società determinati stereotipi piuttosto che determinate come dire attribuzioni negative no? che è la comunità afroamericana negli Stati Uniti che come dire è stata fortemente è tuttora fortemente razzializzata è chiusa spesso e volentieri all'interno delle situazioni materiali terrificanti all'interno della quale si sviluppano anche di conseguenza una serie di comportamenti criminali che però vengono raccontati no? come in qualche modo preponderanti e che hanno il racconto di questa di questa cosa ha chiaramente un effetto deleterio su l'utilizzo della repressione e anche insomma della forza letale ma non solo per cercare anche in qualche modo da un lato di normare diciamo questi comportamenti che vengono percepiti come devianti anche in caso questi insomma ovviamente non ci siano e siano solo diciamo forme di di pregiudizio e mi volevo insomma ti volevo chiedere se volevi raccontare diciamo questa cosa qui e allo stesso tempo ci volevo diciamo abbinare un pochino una riflessione sempre su a partire diciamo da questo esperimento qua cioè la questione che in qualche modo l'individualizzazione dei comportamenti sociali cioè l'idea che in qualche modo i comportamenti sociali siano individuali che vi sia qualcosa di intrinsecamente no? anche attraverso l'utilizzo di categorie morali no? la categoria morale della cattiveria che esulano come dire dall'analisi delle condizioni sociali e dall'analisi delle condizioni materiali sia in realtà anche in qualche modo a geometria variabile nel senso che una riflessione che mi veniva in mente a me sempre su questa cosa qui è che in realtà cioè l'individualizzazione no? dei comportamenti sociali vale per determinate componenti per determinati individui della società mentre invece nei confronti di altre componenti viene fatta percepire pubblicamente l'idea che essi invece siano organizzati in società ma siano organizzati in una società in qualche modo antagonista no? cattiva no? barbara e delimitata insomma da un lato fisicamente dei ghetti delle bagliore insomma di certe forme di esclusione sociale anche fisica e dal lato a livello di comportamenti cioè all'interno di quelle robe lì si pensa che si riproducano tutta una serie di comportamenti che sono fondamentalmente barbarici e da cui bisogna in qualche modo cercare di difendere insomma il resto della società produttiva assolutamente questo esperimento è molto interessante proprio perché appunto spiega un po' gli effetti di questa roba che hai appena raccontato tu sostanzialmente i partecipanti all'esperimento sono vengono scelti sempre un po' con i criteri di cui parlavo prima in questo caso si tratta di una popolazione adulta gli psicologi sociali che fanno questo esperimento sostanzialmente fanno tre studi tutti e tre collegati sulla la volontà diciamo e l'incidenza di sparare a qualcuno a seconda della sua appartenenza etnica cosa si fa sostanzialmente prima di far partecipare al il soggetto il soggetto diciamo da sperimentare all'esperimento lo si mette in una stanza dove lui pensa casualmente si trovano sostanzialmente degli articoli di giornale che parlano di alcuni eventi criminali i soggetti sperimentati vengono divisi in due gruppi c'è un gruppo di controllo e ai due diversi gruppi viene sottoposto esattamente lo stesso articolo con la differenza che il protagonista i protagonisti di questi eventi criminali da una parte sono afroamericani e dall'altra invece sono bianchi quindi dopo avergli fatto leggere questo articolo il soggetto viene introdotto alla parte diciamo attiva dell'esperimento che consiste in una sorta di videogioco all'interno di un monitor iniziano a scorrere delle immagini molto rapide ci sono degli sfondi diciamo fissi come un parco come questo all'interno del quale compaiono delle immagini di individui armati oppure disarmati c'è da dire che chiaramente come al solito non viene detto il reale scopo dell'esperimento al soggetto sperimentato ma gli viene detto che è una sorta di studio un po' sui riflessi e di conseguenza viene chiesto di rispondere nel più breve tempo possibile all'impulso di premere o meno il grilletto sulla base che l'individuo che essi vedono all'interno dello schermo sia o meno armato questo esperimento sostanzialmente ha dimostrato che la maggior parte una buona parte insomma dei partecipanti all'esperimento avevano un'attitudine maggiore a sparare nei confronti dei neri anche quando questi erano disarmati a sparare meno nei confronti dei bianchi anche quando questi erano armati chiaramente la conseguenza poi sociale di questo tipo di fenomeno è quella che veniva raccontata prima cioè un paese in cui magari abbiamo raccontato anche qui per introdurre l'esperimento alcuni casi di cronaca un nero che gira non lo so con in mano un pettine oppure un cellulare che però ha una forma particolare può essere scambiato per un afroamericano armato e come tale viene abbattuto dalla polizia che utilizza chiaramente nei confronti di quel tipo di comunità e di altre comunità e minoranze un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello che tiene nei confronti del maschio bianco angloamericano eccetera eccetera quindi è evidente che questa roba qui ci fa capire anche quanto poi in maniera inconscia noi tutti introiettiamo determinate diciamo determinate forme di propaganda oppure determinati presupposti ideologici perché non è che ovviamente la popolazione selezionata per questo esperimento era composta dai razzisti non lo so del Ku Klux Klan del Mississippi erano persone normali che semplicemente in maniera inconscia avevano sviluppato l'idea che un nero potenzialmente fosse più pericoloso e conseguentemente andava in automatico il loro cervello a colpire in maniera preponderante i soggetti afroamericani indipendentemente appunto dal fatto che fossero meno armati è evidente quello che arrivando alla seconda parte della domanda quello che dicevi tu quello che dicevi tu prima che chiaramente nei confronti dei gruppi e delle minoranze dei gruppi marginati marginalizzati delle minoranze e dei soggetti in generale subalterni si utilizzano tutta una serie di stereotipi e pregiudizi che vanno a fare un'opera di da un lato semplificazione della realtà che poi serve chiaramente a mantenere un certo tipo di sistema propagandistico e a favorirlo e dall'altro ovviamente una descrizione che c'ha come scopo quello di costruire sempre questa immagine del nemico sostanzialmente la minoranza è tutta uguale la minoranza ha dei comportamenti stereotipati la minoranza è sempre comunque contro noi vuole distruggere il nostro ordine vediamo anche adesso tutto quello che è successo rispetto al tema delle scuole e del ramadam cioè la chiusura di alcune scuole di Milano per permettere insomma ai ragazzi che poi in quelle scuole sono anche in tali casi preponderanti di poter vivere questa festività religiosa è evidente che chiaramente appunto siamo di fronte a questa situazione ambivalente e che comunque questo tipo di sistema ideologico che purtroppo ferma la società in cui viviamo c'è anche questa grande capacità cioè di annullare tutte le contraddizioni di fare a sua volta discorsi profondamente contraddittori ne abbiamo già citati diversi ma di avere una propaganda così forte radicata e martellante da fare in modo che queste contraddizioni molto spesso non vengano non vengano alla luce ecco questo questo è non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire sono tutti della seconda metà del novecento sostanzialmente chiaro che i più recenti siano anni 90 anni 2000 qualcuno e il più vecchio credo che sia questo esperimento di Robert Schieve uno studio sull'isteria di massa che è un altro fenomeno molto interessante sempre a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 e gli anni 50 peraltro anche quello è uno studio molto interessante e molto attuale perché poi pure lì fa vedere il potere di condizionamento dei media rispetto al sentimento comune riguardante certi problemi faccio anche qui un breve inciso perché appunto è una storia interessante la storia sostanzialmente di questa follia collettiva che prese piede in una piccola cittadina americana all'interno della quale a un certo punto tutta una serie di persone iniziarono a denunciare di essere state aggredite da un anestesista fantasma armato diciamo nel loro dimore e che li stordiva o appunto iniettando di qualcosa o disperdendo nel gas dell'ambiente questo studio ha dimostrato che sostanzialmente questa isteria collettiva è totalmente collegata all'uscita di tutta una serie di articoli sui giornali locali che descrivevano la presenza di questo mostro nel tranquillo ambiente cittadino cioè da una iniziale segnalazione che poi lo psicologo lo studioso a cui è risalito e che era di una signora evidentemente con problemi di alterazione importanti della realtà questo evento è stato pompato dai giornali quindi il paese è caduto completamente nell'isteria e tutti hanno iniziato a fare ronde e a dire di vedere questo soggetto qui che si aggirava poi quando la vicenda diciamo pian piano è stata sbontata perché poi ovviamente di fronte all'assenza di qualsiasi verifica qualcuno ha iniziato a dire forse ragazzi qui non ci sta nessuno a cominciare anche dalle autorità locali che a un certo punto saranno preoccupate perché veramente le persone avevano raggiunto il livello di paura e di sterile altissimo a quel punto i giornali iniziano a dire no in realtà non esiste nessuno e incredibilmente non c'è più nessuna denuncia di aggressione quindi ecco questo per dirti che però l'asso temporale è veramente ampio questo qui invece che ho citato prima è uno dei più recenti quello dello sparare o non sparare prego sicuramente in parte ci sono dei comportamenti come questo qui che ho indicato e che abbiamo un po' tutti vissuto la paura all'isteria anche in determinate fasi amplificate da diciamo tutta una serie di indicazioni anche tra loro contraddittorie poste in essere a livello mediatico è chiaro che comunque qui parliamo di studi condotti in ambienti molto spesso chiusi e controllati su una popolazione anche molto limitata e con una capacità diciamo di osservazione molto alta perché poi tutte le minime reazioni dei partecipanti all'esperimento venivano segnalate e catalogate per poi verificare tutta una serie di tempi di risposta e atteggiamenti e comportamenti quindi rispondendo un po' alla tua domanda direi che alcune dinamiche alcuni comportamenti magari verificatesi in quel periodo storico possono essere anche riletti alla luce di alcuni di questi esperimenti però chiaramente quello è un evento collettivo su scala molto ampia che peraltro ancora è anche talmente vicino che è anche più difficile da analizzare in maniera chiara sostanzialmente se non ci sono altre domande direi che possiamo chiudere ringraziamo ancora Matteo e ricordiamo che i libri che abbiamo presentato sono disponibili al banchetto laggiù insomma sotto la bandiera della Palestina al banchetto del senza pazienza e grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti